Riconosci questa casa? Quella casa ha spinto Ronnie DeFeo a uccidere la sua famiglia. Li hanno trovati ieri, morti. È solo una storia di fantasmi. Questa casa andrà benissimo per noi e per tuo fratello. Trova la fonte del male e distruggila. Questa casa è maledetta. Non ci lascia andare via. Sembra che sia viva. Amityville, il risveglio. Dal 23 agosto al cinema. Grazie.